Samsung Portable X5 è l'SSD esterno top di gamma, dotato di porta Thunderbolt 3 con connettore USB-C. Pesa solo 150 grammi, ma gode dell'estrema affidabilità degli SSD Samsung, in termini di resistenza agli urti e di protezione dei dati. Si rivolge ai professionisti nel campo della progettazione audio-video, ma anche a tutti coloro che hanno necessità di espandere la capacità del proprio storage, della propria macchina, senza rinunciare all'affidabilità e alle performance. Essendo dotato di porta Thunderbolt 3, che garantisce larghezza di banda di 40 gigabit al secondo, il Portable X5 permette velocità di trasferimento fino a 2,8 gigabyte al secondo. Praticamente 5 volte più veloce del già popolare T5. Questo permette di spostare grosse quantità di dati in tempi brevissimi. Nel nostro test abbiamo spostato una cartella di 25 gigabyte contenente file in 4K in circa 20 secondi. Praticamente performance simili a quelli di un SSD interno PCI Express NVMe. Nella fase di inizializzazione del Portable X5 possiamo anche scegliere una password allo scopo di crittografare i dati. Questo ci permetterà di proteggere il contenuto e il disco stesso. L'uso del dispositivo è semplicissimo. Abbiamo installato ed eseguito direttamente dall'X5 un gioco come l'Eats for Speed, che richiede grosse capacità grafiche e velocità di trasferimento elevate. Per i professionisti che gestiscono file di grandi dimensioni abbiamo provato a testare la suite Adobe Creative Cloud installata direttamente sull'X5. Il risultato è stato un'estrema fluidità nell'esecuzione e nell'apertura dei progetti. Questo ha reso trascurabile il fatto che stessimo eseguendo il tutto dall'SSD X5 e non dall'SSD integrato. Per finire, utilizzando il nostro 34 pollici, abbiamo creato una postazione completa di lavoro in modo veloce, sicuro ed affidabile, connettendo direttamente il notebook e l'X5 al display. Ci sono già in commercio macchine di livello medio-alto con la storage integrato e quindi difficili da espandere. Per questo i professionisti che avranno l'esigenza di crescere il loro business in futuro vedranno e troveranno nell'X5 la risposta alle loro esigenze. Il Samsung Portable X5 rappresenta un punto di arrivo ma anche un punto di partenza per quello che riguarda il futuro dello storage esterno.